Un ciclo perenne di vita e di morte mescolate insieme per dare quel meraviglioso e ignoto che è la vita umana e naturale. La mostra della declinante ombra di Vincenzo Scolamiero presso il museo Carlo Bilotti è un viaggio nei meandri della psiche, delle emozioni e dello spazio che seppur bidimensionale trascende le tele, il colore e le forme per farsi reazione all'interiore. Io mi nutro molto di musica e di poesia per il mio immaginario artistico, tutta l'arte che per me conta è un qualche cosa che fa riferimento sempre alla dimensione umana. La mostra è divisa in diversi ambienti qui al museo Bilotti che comunque dialogano tra di loro come in contenitori non chiusi ovviamente però con le loro specificità, molto legati come dinamica di costruzione dello spazio ma con dei riferimenti altri. Abbiamo una stanza dove sono esposte delle partiture di carta dipinta con sopra dei pentagrammi e uno sviluppo disegnato di musica perché è un progetto elaborato con una compositrice, Silvia Colasanti, non è una pittura figurativa, è una pittura sempre che apre uno spazio trompele, in cui appunto le pennellate diventano veramente delle forme dell'animo. La pittura di Scolamiero in particolare la potremmo definire sinestetica, sinestetica nel senso che la sua pittura contemporaneamente è anche poesia, è anche danza e lo si vede nei movimenti pittorici interni alle opere ed è anche musica e di volta in volta dialoga anche contemporaneamente con queste arti in un gioco scambievole di parti e in un dialogo che poi arricchisce anche le altre. La mostra, visitabile fino al 9 giugno 2019, è un'occasione unica per ammirare linguaggi artistici diversi, fondersi insieme, per cercare di restituire quella complessità assoluta racchiusa negli stati d'animo.